Il nuovo film di Disney interpreto Mangiafuoco, che in realtà nella versione cinematografica del 40 e anche in questa, ha un nome diverso, si chiama Stromboli. Siamo rimasti abbastanza fedeli perché nella versione animata Stromboli Mangiafuoco era di origine italiana, per quello si chiama Stromboli e il regista Zemeckis mi ha chiesto di spingere molto in quella direzione, la direzione dell'italo-americano, di un personaggio che possedesse un inglese stentato. Amo molto questa fiaba perché mi fa soffrire ed emozionare tanto. Pinocchio soffre tantissimo e facciamo fatica a sopportare anche la sua sofferenza e cerchiamo di superarla pensando che per metà è fatto di legno, ma in realtà poi quello è un bambino che scopre piano piano la consapevolezza di sé, scopre il significato del coraggio, della solidarietà, partendo da una condizione da bambino, di quello che fanno tutti i bambini, che dicono le bugie, che non vogliono studiare, che non vogliono fare niente, che pensano solo a mangiare e a divertirsi. Questo è normale, è una cosa che noi perdiamo con l'età, più o meno, quasi tutti, però è una cosa che appartiene molto ai bambini. Non capita tutti i giorni a un attore italiano di far parte del cast di un film internazionale. Io ho avuto questa fortuna di lavorare a fianco di attori con i quali sono cresciuto, soprattutto Tom Hanks. Pinocchio uscirà l'8 settembre su Disney+. Ho un rapporto particolare con questa piattaforma perché posso vedermi le cose con cui sono cresciuto e che non smetterò mai di vedere. Grazie a tutti.